Blitz della polizia locale di Eboli nell'ex casa cantoniera situata sulla strada statale 19. All'interno sono stati trovati tre uomini e una donna di nazionalità marocchina che la occupavano abusivamente. Le condizioni igienico-sanitarie della struttura erano a dir poco precarie vista la presenza di spazzatura di ogni sorta. I quattro si erano rifugiati lì per ripararsi dal freddo e dormivano su materassi appoggiati direttamente sulla superficie. Uno di loro è riuscito a scappare. Gli altri tre sono stati identificati ed allontanati.